E' holo a todos belli bentornati dal Paschix, oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video unboxing Ho comprato delle cuffie True Wireless, volevo vedere se valessero effettivamente quanto le ho pagate Visto che, piccolo story time, una settimana fa ho pensato di aver perso le mie cuffiette In realtà poi le ho ritrovate, ma erano rotte, non si caricano più e non si connettono più al telefono Le mie erano delle vecchie UrbanPods Pro, che ora non ho idea di dove Cristo siano finite Però fatto sta che si sono rotte e ho detto, c'è da comprare altre cuffiette perché senza cuffiette non si vive Quindi ho ordinato da Amazon le JBL Wave 200 TVS Mi sono arrivate appunto stamattina, più o meno verso le 11 di mattina Ci hanno messo una giornata e mezzo per arrivare Però adesso siamo qui per testare Per l'occasione sto usando il mio telefono principale, quello con cui ho fatto il video unboxing Di questo telefono Detto questo, cominciamo con il pacco Allora, mi sa che dovrò censurare perché si è visto il pacco di Amazon Sono un po' un coglione Eccoci qui all'unboxing incredibile e magico Allora, c'ho una mano sola quindi potrebbe non essere facile Però ci sto riuscendo Eccole qui ragazzi, queste sono le JBL Wave 200 TVS Procediamo all'unboxing Allora, come Cristo si aprono Le devo rompere per aprirle Mi sa che le sponderò completamente Ho deciso appunto di scegliere queste cuffie perché Io sono fan del design Apple Infatti le Urban Bots Pro erano esattamente la copia delle Airpods Cioè non sono stato tanto a fare una grossa ricerca Se suona bene o non suona Cioè ho trovato un prezzo che secondo me potrebbe rendere Un'azienda di cui mi fido Molto famosa Assomigliavano alle Airpods E quindi ho detto fai fammele prendere Perché io ci sto troppo comodo con le Airpods Addio Cristo ce l'abbiamo fatta Eccole qui signori Vengono subito con i gommini Il cavetto di ricarica E poi eccole qui Ve le faccio vedere anche a voi qui in camera Procediamo all'apertura Ok, allora Diciamo che riesce abbastanza bene C'hanno il magnete Che le richiude in automatico Se fate così Oh, sembrano un botto più grandi delle Urban Pulse Sono un botto più soliti ragazzi Ok, questo dovrebbe avere un botto più di qualità Infatti si vede tantissimo E fa anche lo zoom Cioè fa anche profondità di campo Così vedete anche meglio Questa è la scatolina Indica anche left and right Non so quanto si possa vedere Magari se accendo il flash Indica appunto anche left and right Qui possiamo tirare fuori Ci stanno dei mini sensori Mi sembra delle lucine Non so cosa siano In fondo si caricano Vado a rimuovere questi pezzettini di plastica E qui si può vedere appunto i pad di ricarica E penso ci sia anche il microfono Che sia questo qui Se riesco a zoomare ancora di più Ok Per farvi vedere appunto Molto da vicino come sono fatte Non so se abbiano un touch fisico Forse potrebbe essere qui Vorrei testarle con il mio telefono adesso Che sta registrando Quindi non le testerò con il mio telefono Bensì con un altro telefono che ho Cioè no, una marea Il telefono che mi è durato per 4 anni Ce l'ho ancora nel cassetto Come un bravo bambino di 10 anni Fammi un attimo leggere il manualo qui Quick start guide Sono un sacco di fogli Per favore Posso avere una cosa semplice Sto sudando come un pazzo Sto veramente sudando come un pazzo Andare ad accendere la ventola Per farvi capire Questa un po' la camera mia È un po' un disordine Lì c'è quella che mi salva Ogni singolo giorno Piero Francesco Piero Vici Piero Filippo La ventola Andiamo ad accendere Perfetto Sono tornato Quando sono in carica Fanno questo led Led verde di ricarica Molto Molto buono Ora metto un po' a posto Che qui c'è un sacco di casino Che non deve essere Ok Ok L'ho rimesso a posto Non è stato facile Manco per il cazzo Direi Che è arrivato Il momento Della prova Ora sblocco un attimo il telefono Non lo vedrete mai Le apro In teoria dovrebbe cominciare La ricerca Cioè dovrebbero essere visibili Ora Non sto capendo Giuro che non sto capendo Non hanno un tastino Nel nulla Non è che tipo Le devo tirare fuori Cioè allora Eccone una Ha fatto una lucina E ha fatto un'altra Lucina Ok Stanno luccicando Ora Eccole qui Ok Associazione Sì Sì Accedi a tutto Tanto non c'è più Un numero di telefono Stanno connettendo Non mi rileva Quanta batteria abbiano Però secondo me C'hanno la loro A Tanto le metto Ok Allora Isolano completamente il suono Isolano veramente bene Se posso Magari Farvi vedere Anche da Questa Questa gamma Stanno benissimo Nell'orecchio È partita una canzone Partita Safe and Sound Vediamo se esiste L'auto equalizzazione Per loro No Non esiste Manco per il cazzo Allora Andiamo su equalizzazione Allora Andiamo a prendere Come base Loudness Allora Vi devo dire L'audio assoluto L'audio al massimo Non è altissimoissimo Ora Dovrò fare un po' di prove Con l'equalizzatore Per sentire come è meglio Di solito Loudness Mi piace su quasi tutte Mettiamo le sintonizzazioni Bassi Io faccio esattamente Gli stessi procedure Che facevo sulle urban pause Adesso Incremento bassi No Virtualizzazione no Virtualizzazione no Andiamo a mettere qualcosa Adesso Ok Vi devo dire che È molto bello Per ora Cioè Sembrano suonare bene Ok Penso che l'app sia questa Allora Non sono ultra responsivi Vi devo dire Cioè Quando si preme la prima volta Per stoppare la musica Senti un feedback Audio È tipo BUP E poi Si stoppa la musica Invece Quando deve ripartire È abbastanza rapido Adesso Andiamo un po' a vedere Su JBL Headphones Le ho provate Ragazzi Le ho provate un sacco Più o meno Tanto Cioè Ho fatto usi anche diversi Cioè Guardate Sì Io stavo facendo un unbox Sei tranquilla lì Sandy Ciao Sandy Che carino Torniamo al video L'ho provato E ho ascoltato un sacco di musica C'è un problema Io mi fidavo del marchio Ma diciamo che hanno un po' tradito Quelle che erano le mie aspettative Non tanto sul suono Però C'è un problema L'app Che ti permette appunto Di andare a modificare i parametri Di trasparenza Cancellazione del rumore Di quei valori che diciamo Anni fa aveva solo iPhone Ecco Io pensavo appunto Che funzionasse Effettivamente Se andiamo sull'app Il modello Lo capiamo qual è Ma non lo riconosce E ho notato che online Un sacco Ma un sacco di utenti Si lamentano Da anni e anni Di quest'app Che non funziona Sandy Dio Cristo Madonna ragazzi Stavamo parlando appunto Delle cuffiette E del fatto Che l'app Non si connette Non si connette Che questa è una cosa Che hanno riscontrato Anche un sacco Di altri utenti Quindi se comprate queste Per sostituirle Alle Airpods Per cercare di avere Un modello Più economico Non fanno al caso vostro Piccolo avviso Per il resto Se siete degli ascoltatori Medi Non avete troppe pretese Perché ovviamente Se andate a spendere Solo 50 euro Per delle cuffie Non avete Glosse pretese Quindi La domanda Che vi viene posta È la seguente Voi Le comprereste Per una buona ergonomia Tanti gommini Una di carica Abbastanza rapida Con cavetto Incorporato Molto figo Arancione Per un ascolto Diciamo Di qualità Ecco Vi devo dire Di qualità Io Attualmente Non me le sento Benissimo Sulle orecchie Perché sono abituato Alle Urban Pots Che erano completamente Diverse Alla fine Cioè io pensavo Fossero quasi uguali Invece sono completamente Diverse Queste si pesano Un sacco di più Il case pesa Un sacco Ma sono sicuro Che la batteria Durerà più di 45 minuti Stavolta Cioè le Urban Pots Per l'amor del cielo Belle Tutto Però non dura La batteria E vabbè Quest'era Per 50 euro Non lo so Se le ricomprerei Devo essere sincero Perché mi ha fatto Un po' Storcere il naso Il fatto che appunto L'app non funzioni E quindi si perdono Un sacco di funzionalità Utilissime Tante persone Comprano Soprattutto per Il supporto che c'è All'app Per le funzioni Che offriva Io per fortuna Mi salvo Perché ho Craccato Tempo fa Wavelet Che è A mio modo di vedere L'app migliore Aspettate Devo andare ad aprire Al Cattos Sono tornato Per l'ennesima volta Queste cuffie Sono buone Per la fascia di prezzo Me Me Fatelo spiegare Da un pugliese Cosa vuol dire me È un intercalare Penso Possono sostituire A 50 euro Le UrbanPods Alla fine Perché sono passati Anni e anni Io ho passato Questi ultimi due anni Usando le UrbanPods Pro C'è stato un sacco di hype Dietro a questo prodotto Negli anni E hanno deluso Alla fine Le aspettative Però stando due anni Con queste E con il fatto che Una cuffia durava Meno dell'altra Ed era un quarto L'ora di differenza Alla fine Su queste sono più promettente Perché sono sicuro Che l'unico fattore Che mi va tanto a cambiare Visto che l'audio Alla fine La qualità La puoi fare come cazzo Di fare con un equalizzatore Quindi alla fine La qualità In un'unica cuffia Non mi cambia niente Perché so come andare A rimetterla apposta Sono fiducioso Per la batteria Per qualsiasi cosa Dovesse succedere Di importante Ci farò un video sopra Quindi Stay tuned E vi do un piccolo spunto Visto che a questo punto del video Non ci arriva quasi nessuno Generalmente Sta arrivando Tantissimi video Allora Gmod Poi Più di un mese Con S21fe Vlog della casa vacanze Il video delle gare numero 4 Che forse è già uscito Al momento di questo video E le gare 5 Non si sa Quindi ci sono un sacco di video Devo montare Che stanno arrivando Quindi spero che interessino E soprattutto Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi Like Campanellina Del Pacex è tutto Bella Ciao